Guarda, avanti, prontate. Allora, guarda, 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 guarda. E' un'altra, guarda, guarda. Allora, quando è imparato, noi da noi faremo sempre l'effetto walking dance. Siamo pronti? Ah, guardate, Giorgia Caminaletti, canente da giù. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Noi facciamo il cambio, ma facciamo il cambio. Il collegamento con i promedi che vengono dal sotto. Allora, ma chi è questo rumore? Siamo un numero di là. Ciao. Allora, attenzione. Ieri, tutto bene? Dove sono i fissi? Ah, è il fissi. Buonasera, buonasera amici, buonasera. Voi siete nelle stelle di dietro? Siete nelle stelle di dietro? No, faccio un'altra, faccio un'altra, faccio un'altra, faccio un'altra. Ma te siete qui, te, ma le miei, chi è che va per madonna? Se qualcuno mi dice questo. Vedi dei fotografi? Stanno fotografando qualche personaggio famoso? Chi è? Dov'è? Dov'è? Sono il fissi? E' quello che fate? Chi è? Dov'è? Ciao. Ciao, quanto resta, ciao. Ehi, come si è? Allora, voglio sentire l'urlo dei siciliani. Sì. Allora, si vincano in maggioranza. No, questo non si serve, questo è quello che io parlo con te. Però, si vede che io sto ristrattenendo la platea, ti dovi un attimo, mi ha più. Sì, 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 mi ha più. Ecco. 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 Forza. Salve, benvenuti amici di San Pettano. Andate, andate. Prima arrivate e prima conferenza stasera. Andate bene, ragazzi, ragazzi. Bene, ragazzi, qui, che veramente mi danno questa moda perché è una roba incredibile. Salve, signora, con la benedizia. Signora, signora, lei. Sì, 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 signora. Lei, lei, lei. Signora, benvenuti. Benvenuti. Buon cacchetto. Eccola. La volevo salutare. Come va, signora? Sì, perché ci vediamo dentro il teatro, eh? Ci vediamo dentro il teatro. Non si sa, non si sa, non si sa, non si sa. E saluto noi, ciao. Sì, abbiamo la concentrazione, non posso fare l'impatto, ma proprio qui. Ma questa sera, l'inizio del teatro, sarà qui, 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 qui. Bravo. Da fuori darà Bensiopù. Arriva Bensiopù, arriva Bensiopù, la toglieremo con un grande applauso. Ciao, ciao. Eccolo qua. Ciao, amici. Guardate, stanno arrivando i lisp. Stanno arrivando i carremo, eh? Le merupi. Sì, sì. No, no, no. Guarda, è meraviglia, ragazzi. Sì, siamo. Ma questo è bellissimo. Mi fa il sapore, non prende una cosa. Ok, famigli? 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 Aspetta, eh. Famigli? Sì, fuori. Fa il sapore. È vero che quando ero, noi ti stanno arrivando. Stanno arrivando a questo, noi ti stanno arrivando. È vero. So, è vero. È vero. E' vero che non puoi parlare. A via. È vero che non puoi parlare. Sono vero che i carriam. È vero che i carriam. So, è vero che i carriam, i carriam. Churi! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.